Siamo ancora qui, giusto il tempo di fare due faccende in casa, una doccia perché c'è veramente troppo caldo e siamo nuovamente qui a commentare le parole di Tiago Motta alla vigilia di Juventus a Las Verona. Parole non banali oggi. Ci sono stati due o tre passaggi che mi hanno veramente fatto emozionare. Ne voglio discuterne insieme a voi perché, come ben sapete, essendo questo un canale in cui praticamente facciamo comunicazione, vi ho sempre detto che la comunicazione da parte dei tesserati della Juventus la considero comunque molto importante. Poi è ovvio che non è quello che viene da quello che dici poi determini in campo i risultati, però la comunicazione è molto importante anche per l'ambiente, per mantenere un certo tipo di ambiente abbastanza calmo, sereno, tranquillo. Vi faccio un esempio. Le dichiarazioni di Conte nelle varie conferenze stampa è anche quella prima dell'Ella Sverona. Conte va a lamentarsi di quello che sta succedendo dentro il Napoli. Ed ecco il patatrac. Sicuramente non è quello che ha fatto perdere il Napoli, ma sicuramente anche i calciatori in questo momento avranno una pressione differente con Conte rispetto a quella che hanno nei confronti di Tiago Motta. E poi ci sono quei tweet del mio caro amico Romeo Agresti che dice la Juventus continua il pressing su Sancho dieci minuti fa come fa uno a rimanere lucido e quindi non lo so, forse appuntamento anche al tardo pomeriggio. Ragazzi un mi piace per supportare questa carrellata di video senza sosta. Siamo degli staccanovisti anche di domenica, anche in agosto di domenica. Si va al mare? No! Si sta a casa e si lavora. Vai, così. Come sta la squadra? Come si è allenata dopo il successo? Quali sono le insidie del Verona? Molto bene. Buona preparazione della partita e buona settimana di lavoro. Piedi per terra dopo una giornata di campionato. Ora siamo solo alla seconda. Affrontiamo una squadra che sta bene dopo la vittoria col Napoli che è una seria candidata allo scudetto. Battagliano, lottano, contrattaccano, sanno cosa vogliono in campo. Tiago Motto oggi aveva un bel tacquino con una penna e ogni volta che un giornalista faceva una domanda andava a leggere sul tacquino. Non so cosa c'era scritto, non ne ho la più pala idea. Mi sembrava quasi andare a reperire informazioni su chi gli stava facendo la domanda. Mi sembrava davvero una roba di questo tipo, che si fosse preparato in precedenza l'elenco dei giornalisti per andare a vedere qualcosa che si era scritto in maniera preventiva. Non lo so, datevi a vedere la conferenza anche voi. Sul mercato sono arrivati giocatori che assaltano l'uomo. Quali caratteristiche mancano per completare la rosa? Ho la fortuna di avere tutti giocatori che hanno caratteristiche diverse e funzionali nella nostra squadra. Tutti loro hanno la stessa possibilità di giocare. Mi sento un allenatore fortunato. Vi dicevo, Conte che dà segnali e si lamenta della squadra contro un Tiago Motta rilassato e dice mi sento fortunato della rosa che ho a disposizione. Poi, Ventusa e Napoli stanno facendo due mercati differenti. Questo è poco ma sicuro e Conte se si lamenta credo anche che abbia abbastanza ragione al netto di quelle che sono poi le valutazioni sulle singole operazioni, tipo quella di Lukaku che per me è una follia e nasce proprio da Conte. Però si sente che Tiago Motta in questo momento è tranquillo, sereno e concentrato su quello che deve essere il cammino della Juventus a partire dall'Elas Verona. Come sta Danilo? Ha avuto una botta, non si è allenato. Oggi pomeriggio abbiamo un ultimo giorno di lavoro e valuteremo come sta. Milik come sta? Ebangula può giocare anche a destra? Arek sta recuperando, non è in gruppo. Però non si è parlato di cessione. Poi ne parleremo in seconda battuta. Tra l'altro Miretti ufficiale pochi minuti fa al Genoa in prestito. Samuel ha caratteristiche diverse, ma destra e sinistra per lui deve cambiare pochissimo. Poi l'altra sera a sinistra è rientrato e ha fatto gol. A destra posso capire qualche difficoltà in più, ma lui può dare tanto a partire dagli allenamenti. Kalulu come centrale o difensore esterno a destra? L'ho trovato molto bene fisicamente, si è inserito bene in gruppo. Può giocare sia centrale sia terzino, come ha già fatto al Milan. Mercoledì compie 42 anni. Giuntoli ha già fatto diversi regali. Cosa si aspetta ancora? Qui Tiago Motta ci rimane un po' male. Tra l'altro confermo un po' quello che pensava sui giornisti perché dice mi hanno parlato di te. Non mi ricordo chi era il giornalista, forse gamba, di Repubblica. E ringrazia. Dice grazie mille che ti sei ricordato il mio compleanno. Ma stiamo lavorando molto bene sul mercato per una squadra competitiva. E lo avete già visto. Pensiamo alla Sverona. È la nostra concentrazione adesso. Devo dire la verità. Questa è un scamotage molto interessante per cercare di scucire qualcosa in chiave mercato. Tiago Motta è stato anche soropreso un po' da questa domanda che non si aspettava, da questo passaggio inerente al suo compleanno. Però era un passaggio doveroso per scucire qualcosa in chiave mercato. Ovviamente tentativo fallito perché Tiago Motta si è limitato a fare come fa sempre. Cioè dire pensiamo alla partita perché io sono l'allenatore e di questo devo parlare. Però apprezzo il coraggio per aver fatto questo tentativo. La cosa migliore... Ecco no, fermiamoci un attimo. Aspetta, fermi, fermi. Perché qui veramente... Io per tanti anni, tantissimi anni, ho cercato di passarvi questo concetto. E io ringrazio Tiago Motta per aver spiegato esattamente quello che per me è il calcio e quello che per me è la Juventus. Perché io vi ho sempre detto che io sono un risultatista. A me piace il risultato. Io mi diverto quando la Juve vince. Per me se alla fine dell'anno non sei arrivato a dei risultati di un certo tipo, anche se hai giocato benissimo, il risultato deve esserci. Ma non mi limito solo a dire abbiamo vinto, quindi bene. La prestazione va analizzata perché è la prestazione che ti porta al risultato. Non ci arrivi al risultato senza la prestazione, a meno che tu non stia giocando con veramente dei fuori categoria. Non può essere sempre così. Quindi il risultato è fondamentale, la prestazione è fondamentale. Queste divisioni no, importa solo giocare bene senza vincere. No, importa solo vincere senza giocare bene. Ragazzi, la prestazione fa risultato e il risultato deriva dalla prestazione. Stop. Bisogna volere tutte e due le cose, semplicemente. E quindi ringrazio Tiago Motta. Perché la domanda è la seguente. La cosa migliore è che l'ha lasciato la partita col Como e che deve diventare una Costant e non ha fatto anche in tempo il giornalista a completare la frase che su Costant, non è Costant il difensore del Milan, ma Tiago Motta dice tre punti. Non riesce neanche a dirlo Costante. Tiago Motta dice tre punti. Subito ti rispondo. La cosa più importante è il risultato alla fine. E per arrivare al risultato ci sono tante cose dietro che dobbiamo fare bene. Abbiamo fatto molto bene la fase difensiva, molto bravi a leggere il momento della partita e a capire cosa richiede in certi momenti. Come squadra abbiamo fatto molto bene, possiamo migliorare su tutti. È stata una bella prima prova, ma rimane indietro nel passato e sarà una partita complicata contro la Sverona come tutte in Serie A. Grazie. Io nella prima conferenza stampa vi dicevo Tiago Motta è molto grigio rispetto agli estremisti, gli estremismi, non gli estremisti, anche gli estremisti, gli estremismi che si leggono e che sono diventati motivo di battaglia nel calcio. Tiago Motta mi sembra veramente uno che può unire tutti, che può abbracciare tutti. Da chi apprezza più la prestazione a chi apprezza più il risultato. E anche quelli come me, soprattutto quelli come me, perché Tiago Motta veramente ha descritto alla perfezione il mio pensiero, ma il risultato e la prestazione sono due cose fondamentali entrambe. Da questo non si scappa. Cosa ha lasciato come Juve tre punti. Poi è stata una bellissima prestazione perché quei tre punti sono arrivati in maniera netta, meritata, con degli spunti, con dell'entusiasmo, con tante cose nuove, ma rimangono i tre punti. Poi quelle cose servono per riuscire a replicare quei tre punti anche su altri campi, anche più difficili. Grazie mister, perché veramente questa, davvero, secondo me è la cosa migliore che potesse dire Tiago Motta. In assoluto la migliore cosa dal punto di vista comunicativo. È stata stravolta la sua vita a Torino? Lui dice, la mia vita? Ma la mia vita è bellissima. Voi lo sapete dall'esterno, ma dall'interno è bellissima. Mi sveglio presto, con energie di entusiasmo, per venire al centro sportivo a fare allenamento. Mi trovo con persone fantastiche che mi trasmettono entusiasmo e meuto nel lavoro, dei ragazzi che hanno una voglia enorme di allenarsi, migliorarsi e competere anche in allenamento. Passiamo il pomeriggio a preparare le cose, poi torno a casa dalla mia famiglia che è qui. Una vita, posso dire, privilegiata. Mi sento privilegiato. Ed è bello quando uno lo riconosce. Soprattutto è bello quando senti una persona che dice che è felice, perché è ovvio che per lavorare bene, se non sei felice, sereno, contento, in testa, poi è difficile lavorare bene. Cioè, se la tua vita non ti piace, è difficile lavorare bene. E questo non lo limitiamo a Tiago Motta, un allenatore di calcio, o alla sfera del calcio in generale. Lo sappiamo tutti, ci siamo passati tutti da momenti più o meno felici nella nostra vita, che avranno sicuramente influenzato anche quello che facciamo, dal lavoro allo studio a tutto quanto. Quindi sono felice di sapere che Tiago è contento, perché se è contento vuol dire che si può lavorare meglio. Con il Napoli il Verun ha fatto soltanto il 33% di possesso palla, ma poi ha giocato in ripartenza. Una domanda sulla partita. Tiago Motta qui era bello, felice e contento, perché fino adesso non si era parlato, no? Di partita. Questa è la prima vera domanda sulla partita, su un'analisi. E dice, Ogni squadra ha la propria filosofia, ma poi conta le due aree. Chi incide di più, dove dobbiamo difendere o attaccare, vince le partite. L'Ellas Verona è una squadra forte in quel senso, dobbiamo stare molto attenti, concentrati e determinati, ma noi dobbiamo attaccare questa squadra, dobbiamo andare nella loro area con grande voglia di incidere e poi tornare nella nostra e difenderla, come sappiamo fare molto bene. E queste sono parole bizzarre da sentire da chi ha fatto il centrocampista nella vita. Perché limitarsi a dire sono le due aree va un po' ad escludere quello che è il lavoro del centrocampista, che in realtà invece sta nel mezzo. Però in realtà lo va anche a esaltare. Perché effettivamente il centrocampista è quella figura in un campo da calcio che nelle due aree ci arriva con costanza, sempre. Perché deve andare ad attaccare quando deve attaccare, deve andare a difendere quando deve difendere. Quindi è un'estremizzazione da una parte, ma in realtà è anche un complimento dall'altra. E comunque concordo, perché alla fine poi sono le aree di rigore che determinano i risultati. È ovvio che se arrivi in un certo modo nell'area di rigore avversaria e se sei portato preventivamente a tornare a difendere la tua perché ti sei organizzato prima mentre stai attaccando, è molto più facile anche fare gole e quindi portare a casa le partite. Savona titolare domani. Quale caratteristica le piace di più del ragazzo? Di Nicolò mi piace tutto. Impegno è come mi guarda o guarda chi gli parla. È attento e sveglio a voglia di fare bene. mentalmente molto preparato e a merito suo ma anche di chi ha lavorato con lui nel settore giovanile. Io aggiungo una cosa di cui si parla sempre troppo poco, secondo me, anche dei genitori. Io non conosco i genitori di Savona, ovviamente, non lo so. Però sicuramente il primo input parte dai genitori. Da chi ha permesso, da chi ha dato l'educazione a questi ragazzi. Perché se i genitori lavorano male a priori tante cose poi il ragazzo non le potrà avere e potrà perdersi delle opportunità. Cioè, secondo me, anche tanti giocatori che nel calcio potevano esplodere comunque a un fatto del super carriere. Probabilmente l'educazione che gli hanno dato i genitori non è stata adeguata per riuscire a esprimere tutto quello che avevano dentro. Io aggiungo anche i genitori perché è una cosa che, secondo me, si dice ancora troppo poco nel calcio. Lui e tanti ragazzi chiederanno un grandissimo aiuto alla nostra squadra. Domani sera chi sarà il capitano? E che cos'è per aver ruolo di capitano? Per domani sera ho già deciso il capitano. Ma il capitano non è capitano solo nello spogliatoio ma dappertutto. È quello che deve trasmettere che cosa siamo noi. Abbiamo tanti ragazzi che possono farlo. Da Danilo che è quello più emblematico a Fedeco che lo è stato l'altra sera. Deve trasmettere a tutti cosa vogliamo essere. Dai tifosi agli avversari all'arbitro. Abbiamo tanti ragazzi che possono farlo. Ho già deciso e domani sera vedrete chi sarà. Bella questa interpretazione di Tiago Motta che esce un po' dagli schemi perché per me invece il capitano è una roba fissa. Gigi e Ale sono i capitani e mancherebbe quella di Giorgio anche che è stato un altro grande capitano per me e per la mia storia da Juventino. Sicuramente prima o poi la ficcheremo anche quella di Giorgio. Però il capitano per me è una roba fissa. Invece è bella questa nuova interpretazione del capitano che Tiago Motta sta cercando di dare alla Juventus ma che aveva già dato anche al suo Bologna. E poi chiedono domani come si andrà a sopperire alle assenze di Weihai Turam e Douglas Lewis sarà titolare e qui Tiago Motta tira fuori il suo foglietto il suo death note e dice che Fren non disponibile Tim non disponibile Astic non disponibile Arek non disponibile poi si gira non dimentico nessuno dicono no molto bene quindi vari Desciglio Kostic Chiesa tutti i giocatori Arthur fuori quindi abbiamo ormai capito quali sono quelli disponibili indisponibili ce n'era bisogno di questa precisazione da parte mia no però in realtà sì vi spiego il perché perché Arek Milik lo conta all'interno di questo elenco significa che Milik non è sul mercato significa che Milik è un giocatore che la Juve voglia mantenere per questo vi ho aggiunto questo pezzettino Danilo lo valuteremo oggi tutti gli altri abbiamo un allenamento per valutare decidere chi inizierà e chi subentrerà per aiutare è importante sia chi gioca e sia chi giocherà io faccio grandissima attenzione a chi giocherà perché sono loro che alzano il livello in allenamento nella partita e per me sono fondamentali eh sì non sono 11 giocatori a maggior ragione con 5 cambi anche se Tiago Motta nella prima ne ha fatti soltanto 3 cosa vuole vedere domani di diverso dal Como e cosa in più per battere l'Ellas tutte le partite hanno una storia diversa in casa col Como abbiamo fatto una buona prestazione e un buon risultato domani sarà un'altra storia dobbiamo essere pronti e preparati a tutto hanno grande entusiasmo dopo la vittoria con il Napoli noi dobbiamo fare la partita al massimo insieme come squadra serve mettere le loro caratteristiche al servizio della squadra e qui Tiago Motta va a toccare un po' un tasto che vi avevo già descritto cioè che lui prepara molto anche la formazione le caratteristiche dei giocatori che gli servono a seconda di quella che sarà l'avversaria col Como abbiamo visto il centrale e tanta ampiezza data da Weyemangulà abbiamo fatto anche l'analisi qui sul canale non è detto che anche con l'Ellas servirà questo quindi ogni partita secondo me sarà una sorpresa perché sarà bello scoprire i motivi perché contro una determinata squadra si fa una determinata cosa Gonzales e con Seisao cosa daranno la Juve io qua mi aspettavo la paraculata Nico è un nostro giocatore è già arrivato eccetera eccetera Con Seisao non è ancora invece dice sono giocatori forti per questo arrivano da noi confermato cioè indirettamente Tiago Motta ti conferma direttamente ti conferma l'arrivo anche di Con Seisao noi vogliamo sempre giocatori forti loro e quello che arriveranno saranno competitivi e aiuteranno a essere competitivi dal primo all'ultimo minuto così come chi è presente oggi e anche chi arriverà quindi confermato Con Seisao Nico l'avevamo già visto nei social della Juve e vedremo e vedremo chi altri perché Tiago qua dice chi arriverà conferma che non ci fermiamo qui quante conferme nascoste e poi arriva Antonio Paolino che durante la prima conferenza stampa era stato ripreso da Tiago Motta e aveva detto voi non vi piace parlare la partita infatti Paolino la prima cosa dice oggi della partita abbiamo parlato quindi della serie adesso andiamo su altri argomenti Tiago Motta dice ancora poco però e Paolino dice poco Tiago Motta dice sì poco mi ha fatto morire Paolino dice vabbè allora le chiedo la differenza del primo tempo del Verona contro il Napoli e tra il primo e il secondo tempo e se la Juve come il Napoli è una serie a candidato allo scudetto e Tiago Motta vedi qua si mette fuori il petto e poi non vede l'ora di iniziare a parlare e inizia a descrivere quello che è la Sverona una squadra abituata a giocare certi tipi di partite anche se hanno cambiato allenatore rimane una squadra che lotta tanto mette difficoltà agli avversari nel loro campo quindi in trasferta a Verona e poi qua Tiago Motta mi fa venire un brividino lungo la schiena perché dice nelle ultime 5 partite della nostra Juventus c'è stata una sola vittoria e questo vuol dire tanto quella nostra Juventus mi ha veramente brividino lungo la schiena nota P di pagina ve la dovevo dire è tanto merito degli avversari sicuramente perché è una squadra che sa cosa fare in campo noi dobbiamo affrontarli al nostro massimo e portare dalla nostra parte la partita per lo scudetto lo lascio a voi steso i giornalisti sarete voi che dovrete dire sì, no, bo, forse io devo pensare a fare un'ottima prestazione contro l'Ellas è solo quello che conta e lui dice giustamente io sono l'allenatore devo mica darvi il titolo il titolo lo darete voi io lo so pensare a far bene se faccio bene poi arriva lo scudetto signore e signori Tiago Motta e per concludere domanda che secondo me è anche interessante ma è ancora più interessante la risposta che ha dato Tiago Motta perché gli chiedono ma oltre al merito nel scegliere la formazione quindi questo giocatore gioca perché se lo merito c'è anche il demerito nell'escludere giocatori come Douglas Lewis o Danilo che sono giocatori che comunque hanno una loro storia Tiago Motta si mette così e dice no vuoi insegurarsi intorno e fa no come una serie no basta non ho nient'altro da aggiungere mi ha fatto morire perché ripeto la domanda per me era interessante per iniziare a cercare di capire Tiago Motta perché è un personaggio Tiago Motta cioè abbiamo visto anche in questa conferenza stampa è un personaggio che sa ridere sa essere serio sa stemperare la tensione sa parlare di calcio vuole parlare di calcio vuole parlare di gruppo vuole parlare degli avversari vuole parlare della sua Juventus è un personaggio tutto tondo che per noi è ancora un personaggio davvero da studiare da cima a fondo e poi mi fa morire perché ogni tanto fa delle facce non so se l'avete notato anche qui questa cosa ma proprio il viso di Tiago Motta soprattutto quando fa determinate espressioni oh mi ricorda Jim Carrey non so se sono l'unico aspetto la vostra risposta qui sotto nei commenti io ragazzi vi ringrazio ancora una volta per tutto il supporto di questi giorni e non lo so io spero in realtà oggi pomeriggio di mettermi qua e gestare un altro video perché ci sono degli aggiornamenti difficile secondo un difficilissimo però è bello perché in questo periodo riusciamo anche ad alternare cioè oggi abbiamo parato la partita stamattina del mercato oggi pomeriggio chissà dipende tutto da Giuntoli se Giuntoli oggi incastra ancora qualcos'altro ci mettiamo qui e facciamo altre chiacchiere se no ci vediamo direttamente domani mattina per iniziare a parlare seriamente della partita ciao a tutti ragazzi buona domenica grazie a tutti